La tecnologia di Affixband è decisamente innovativa. La forza della pressa è in estensione durante la fase di piegatura, evitando così qualunque deformazione nella stessa. Il risultato finale? Massima precisione e massimo tenelaggio in tutta la lunghezza di piega. Affixband è composta da due strutture monoblocco di Mea Knight. Questa struttura permette di ottenere maggiore affidabilità e precisione nella lavorazione rispetto a una qualsiasi presso-piegatrice con struttura elettrosaldata. Ha un design ergonomico che permette all'operatore una maggiore comodità di manovra. Grazie a tutti. I fermapezzi 4 e 6 assi sono completamente automatici e con movimenti indipendenti. Alcune parti di esse in fibra di carbonio riducono il peso degli indici consentendo una velocità fino a 1000 mm al secondo per una maggiore produttività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.